già in occasione della nomina della giunta regionale avevamo sottolineato la scarsissima inesistente a dirla tutta attenzione rivolta dal presidente bardi alla cultura convinzione che si è rafforzata in seguito alla presentazione delle linee programmatiche dell'appena rieletto presidente linee da cui non traspare alcuna volontà di investire seriamente e scientemente su un comparto che non è un accessorio meramente esornativo bensì un settore produttivo a tutti gli effetti lo asseriscono le consigliere regionali del movimento 5 stelle alessia aranio e viviana verri apprendiamo tuttavia continuano le consigliere che non solo non si ha alcuna visione programmatica per il futuro ma pare che la regione non abbia reperito neanche i fondi per le attività culturali già svolte nel 2023 malgrado le incomiabili premesse della legge regionale di riferimento del 12 dicembre 2014 numero 37 relativa alla promozione e sviluppo dello spettacolo la regione basilicata considera la dimensione culturale un fondamentale perno di crescita di sviluppo qualificato e riconoscere nello spettacolo uno strumento fondamentale di espressione artistiche e di libertà creativa per la crescita culturale l'aggregazione e l'integrazione sociale per lo sviluppo economico per la creazione di nuova occupazione un modello efficace ed importante dell'identità dei territori concorre alla promozione delle attività di spettacolo nel rispetto dell'autonomia della programmazione nonostante tutto questo i buoni propositi sembrano non essere mai stati rispettati pare infatti che da anni sottolineano aranio e berri la regione emane il piano regionale dello spettacolo da ad anno ormai concluso e che sistematicamente gli operatori si vedono costretti ad anticipare tutte le spese delle iniziative espletate nella speranza che presto tardi sia emanato il bando manco a dirlo quello del 2024 non è ancora uscito aspettiamo fiduciose la fine dell'anno per capire quali saranno le iniziative finanziate già svolte a carico degli operatori l'anno scorso però riferiscono aranio e berri una piacevole sorpresa accolto le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo il bando esce in primavera e con determinazione dirigenziale del 12 giugno 2023 la regione ammette per la misura 1 azioni a sostegno degli operatori iscritti all'albo degli operatori dello spettacolo 39 progetti per la misura 2 azioni in cofinanziamento con gli operatori che beneficiano di finanziamenti a valere sulle risorse del ministero della cultura 26 progetti e per la misura 3 azioni di sostegno all'attività della rete 11 progetti così certi dell'idoneità ricevuta i numerosi organismi hanno organizzato e svolto tutte le attività culturali che hanno animato il 2023 fino a qui tutto come da prassi ricordano ancora finché non sopraggiunge la determina del 20 dicembre 2023 che si abbatte come una scura sugli operatori dello spettacolo appellandosi all'esaurimento delle risorse bardi regala un brutto natale a tutto il mondo della cultura così dei 39 progetti ammessi con la misura 1 solo 14 vengono finanziati i 26 progetti in cofinanziamento della misura 2 ricevono un contributo della regione decisamente ridotto e degli 11 della misura 3 8 vengono finanziati sempre con un ribasso alla luce di tutto questo riferiscono le consiglieri regionali del movimento 5 stelle presenteremo un'interrogazione formale per sapere come mai sia stato ridotto lo stanziamento di fondi e soprattutto come faranno gli organismi che hanno già svolto attività a sostenere tutti i costi e ad anticiparne di nuovi per l'anno in corso al di là dei progetti degli spettacoli di cui tutti godiamo ci sono artisti e professionisti che oltre a meritare rispetto devono essere pagati per il lavoro svolto in questa regione pare che non ci sia posto per la cultura alle volte viene rappresentata persino come un elemento di disturbo forse perché spesso la cultura è anche contestazione dello status quo ad ogni modo dicono le consigliere chiederemo conto a bardi di questi finanziamenti falcidiati dell'esclusione dei soggetti che hanno lavorato in attesa di un sostegno economico che potrebbe non arrivare mai questa destra affermano arane e verri a un'idea quanto meno bizzarra della cultura non investe nel settore ma si avvale dei suoi servizi magari spera pure che nonostante il mancato finanziamento ricevuto gli operatori lavoreranno ugualmente anche per il 2024 per bardi evidentemente con la cultura non solo non si mangia ma si affamano pure coloro che si lavorano naturalmente questo sembra valere solo per i cosiddetti pesci piccoli su quelli più grossi concludono arane e verri torneremo